Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi voglio portare un nuovo argomento sul canale ed è una cosa che mi riempie d'orgoglio da morire perché sto iniziando a portare veramente su YouTube tutte le mie passioni. Dove, tra l'altro, fra queste passioni c'era e ci sono ancora i videogiochi, argomento che non voglio più trattare sul canale, però soprattutto sto portando tutte le mie passioni storiche e forti ed è una cosa che mi faccia da morire. E voglio iniziare a portare, appunto, come avete visto, oltre al Libre Game, anche i romanzi. E vi voglio presentare la nuova edizione dell'Armenia, del primo romanzo della saga di Dritz the Warden. Come detto, edito da Armenia, in Italia, che io ringrazio di cuore per aver iniziato questa collaborazione, grazie ovviamente per avermi dato questa possibilità e spero che possa durare. Comunque, per avermi inviato questo romanzo, per farci appunto un'ecensione, grazie immensamente banale di dirvelo è un onore perché sono da una vita un vostro lettore. Si parla di un personaggio tanto famoso nel panorama del fantasy, come Dritz l'elfo scuro di Menzo Berranzan, e si parla di uno scrittore altrettanto famoso nel genere, tale Salvatore, che si è ritagliato negli ultimi, ormai come vola il tempo, mi viene paura a dirlo, 30-40 anni, uno spazio appunto nel panorama fantasy. Perché Salvatore scrisse nel 1988, poi dopo ovviamente nuova edizione uscita in Italia, The Crystal Shard, che era il primo romanzo ambientato nei Forgotten Reams, ambientazione preconfezionata di Dungeons & Dragons. se scrisse questo racconto che vedeva come personaggi principali e protagonisti quattro personaggi, che erano, vabbè, tre e mezzo. Comunque erano Dritz l'elfo scuro, Bruenor, Regis l'Alfling, e poi insieme a questi ovviamente come personaggi un pochino con primaria, ma comunque sempre protagonisti, c'erano anche Wolfgar il barbaro, e Cathy Brie, che era la figlia adottiva del nano Bruenor di Mitrilol, che anche qui poi dopo voglio esprimere due parole su Mitrilol. E uscì questo romanzo che si chiamava The Crystal Shard, che poi un anno, due anni dopo, venne edito in Italia con il nome Le Lande di Ghiaccio. Le Lande di Ghiaccio fu il primo libro di una trilogia che era tipo Le Lande di Ghiaccio, Le Lande d'Argente, Le Lande di Fuoco, mi sembra di ricordare una cosa del genere, che erano i tre romanzi che facevano questa avventura più o meno conclusiva della saga di Dritz d'Orden, personaggi più ovviamente malvagi, come vedremo poi più avanti, Artemis Entreri, Jarlax, The Bregan Daerte e tutti gli altri, e ebbe talmente tanto successo questa trilogia di partenza che poi dopo li vennero commissionati tantissimi altri racconti, fino a quando non li venne chiesto di raccontare non soltanto le vicende di Dritz d'Orden, che è il protagonista principale che doveva da descrivere, ma quanto e soprattutto l'infanzia, perché di un personaggio così bello, fuggito dall'Under Dark, dal sottosuolo, scacciato dal suo popolo, cacciato a morte ovunque andasse, dovevano creargli comunque una bella storia, storia che bene ne va narrata già nei romanzi scritti da Salvatore, ma che Salvatore poi dopo è andata a infittire, creando proprio la prima, che ora vi faccio vedere, la prima trilogia prequel della storia di Dritz d'Orden, che al tempo si chiamavano, se non erro erano il destino che poi ce l'ho anche, il destino di Dritz, la fuga di Dritz e l'esilio di Dritz, e ora sono stati ristampati un'altra volta, e come vedete il primo numero che poi sarebbe praticamente la nascita di Dritz, che qui viene chiamato il buio profondo, e una cosa che hanno fatto buono in questa nuova edizione, ora poi intanto vi faccio vedere un po' di immagini e tutto quanto, le hanno numerate, vedete in bassa destra c'è un numero, perché un romanzo, due romanzi, tre romanzi, se andiamo a vedere la trilogia vecchia di Dragonlance, erano quattro romanzi, e quindi vabbè, te ti leggi più che quattro, poi c'erano tutte cose satellite, no? La guerra dei gemelli, il destino dei gemelli, però i romanzi della storia erano quattro, e poi dopo c'erano tutte cose alternative. Il problema è che qui sono tanti, iniziano ad essere una trentina, una quarantina, che poi nell'elenco sono tutti quanti appunto messi dal primo all'ultimo, e ora sono tutti numerati. E anche io, quando al tempo iniziai a fare la collezione, li leggevo perché sono appassionato dei romanzi di Salvatore, e soprattutto di Dritz Dorden, quando andavo a leggere dicevo, però questo venne prima di quello, ti toccava andare su forum, ragazzi, ma l'ora di Wolfgar viene prima o dopo Notte senza stelle, e se che dovevi andare un pochino a girare, una cosa an'altra, e ci diventavi scemo. In questa nuova edizione, ovviamente, grafica rifatta. Testi anche aggiornati, perché testi magari anche rivisti corretti in qualche punto, magari anche aggiunte dell'editore stesso dell'Armenia, soprattutto sono stati in questa nuova edizione numerati, e quindi andando anche sul loro sito, che trovate il primo link in descrizione, trovate tutti quanti i testi, tutta quanta la saga di Rizzo Dorden, aggiornate, non lo potete più sbagliare. Se comprate un volume col numero 3, sapete che l'un e il due vengono prima, e quindi è una cosa che sicuramente... Sicuramente non è una cavolata, eh? Cioè, non è una cavolata, perché io stesso mi sono sbagliato a comprare un romanzo di Jarlax e Artemis Entreri, che già raccontava delle cose che avevano fatto prima, però a me non me l'aveva detto nessuno che prima ne era uscita un altro, e allora mi sono iniziato a informare. E questa volta il problema non c'è più. Parlando di Dritz D'Ourden, si parla ovviamente di Menzo Berranzan, si parla dell'Underdark, si parla di Draw, si parla di Casa D'Ourden, si parla di Matrona Malis, che è la madre di Dritz, e Zack Nuffin D'Ourden, che invece è il padre e il maestro di spade di Melein Maltaire. Ed è bella come ambientazione, perché questo primo romanzo, come tutti gli altri, ci fanno vedere, senza spoiler, ci fanno conoscere un personaggio che poi diventerà famoso e si farà amare. O anche in un certo punto magari odiare, però... Cioè, alla fin fine, io non sono tanto per Dritz D'Ourden, perché mi piacciono i Draw cattivi. Io avrei preferito la storia di Draw cattivi, io avrei preferito la storia di suo fratello Dinin, D'Ourden prima di Dritz. Però Dritz ha talmente tante sfaccettature, ed è il cacciatore vero e proprio, è un vero cacciatore, voi lo sapete bene, non è né cattivo né buono, ma mira a sopravvivere. Infatti Dritz è un ranger, come classe anche nei Forgotten Reams, e anche qui nel romanzo. Dritz mira a sopravvivere, quindi anche lui ha fatto delle cose disdicevoli, quindi anche lui proprio avanti farà delle cose di cui magari si pentirà. Però tutto per difendere i propri amici, la propria famiglia che possono essere amici, e soprattutto per sopravvivere. E quindi te lo puoi amare, lo puoi odiare, ma comunque alla fin fine un bel personaggio, quello non puoi dire niente. E questo primo romanzo, Il buio profondo, racconta la sua storia, racconta com'è nato, com'è venuto al mondo, com'è imparato le tecniche di scherma, perché lui è uno schermidore, un combattente con le due spade, le due scimitarie magiche, morte e geli dell'altra, potentissime, com'è venuto in contatto con Genvivar, la statuetta donice della Pantera, astrale, insomma tutta quanta la sua storia, che poi lo porterà appunto a scappare dall'Under Dark, che non vi faccio spoiler, perché tutti l'abbiamo letto, ma magari qualcuno non l'ha letto, fino ad arrivare nella superficie, dove andando praticamente nelle zone di Tirmalane, nella zona delle, se non erano tipo le sette o le nuove città, qualcosa del genere, poi dopo nella valle del vento gelido, per poi arrivare la strada verso quella che è la nuova, Mitrilol, e qui ora voglio dire una parola, e poi verso Kalimport, comunque nel mondo di superficie, lui riuscirà ad adattarsi e a incontrare nuovi amici e scoprirà che la vita non è soltanto fuggire dai droghi che le vogliono tirare il collo, ma soprattutto vivere e combattere per un destino anche maggiore, infatti arriverà poi dopo a fare grandi cose in superficie, senza farvi spoiler, e conoscerà tanti nuovi amici. Qualcuno se lo porterà dall'Under Dark, qualche poco, che non lo voleva uccidere, perché un droghe che non rispetta la società matriarcale, non venera la dea Lolt, la dea Ragno, e soprattutto non è malvace, non segue gli ordini delle matrone droghe, merita la morte di essere, ma nemmeno sacrificato, perché sarebbe uno schifo verso la divinità sacrificare una creatura del genere, però comunque merita di essere ucciso, perlomeno quello. E sì che lui scoprirà che la sua vita non è stata soltanto scappare, quanto anche sopravvivere, e incontrare nuovi amici, e combattere e vivere per loro. Ed è una cosa, alla fine, manda un messaggio bello, perché, una cosa che mi è sempre garbata dei libri di Dritz, come io dico sempre, la serie mia preferita quando ero piccolino, di cartoni animati, è Kenshiro, ma non perché sia più bella di altre, perché se poi vai a valutare, ce n'erano, preferivo ad esempio altre cose, preferivo Yattaman a Kenshiro, però ti dava un insegnamento, Kenshiro ti insegnava il sacrificio, la perseveranza, l'amore, il lottare senza mai abbattersi, mai gettare la spugna, sempre rialzarsi, cioè ti dava un bel insegnamento, per un ragazzino non era tanto vedere esplodere una testa o sangue a fiumi, però ti dava un bel insegnamento, perché Kenshiro era il sacrificio per chi si ama e Drizze è lo stesso, darebbe la vita e arriverà quasi a farlo per le persone che ama. Ora, come vi dicevo prima, il punto che ho preso prima Mithrilol, che è la patria dei nani, ovviamente i nani lavorano nel Mithril con cui fanno armi e armature incantate e Bruenor, Battlehammer, è legittimo re in successione dinastica e quindi vedete tutta quanta la storia. Mi fa ridere che mi ricordo e qui se qualcuno di voi magari anche lui se ne è accorto o ne sa più di me me lo scriva nei commenti, io nelle vecchie trilogie delle lande che ho come romanzi c'era scritto Mithrilol nella vecchia trilogie delle lande. Nella nuova trilogie delle lande, le lande di ghiaccio come vi ho detto era gente di fuoco e che ristamparono qualche anno dopo io mi ricordo che un mio amico perché non trovavo più il mio lo volevo rileggere mi presto il suo l'andè a leggere c'è scritto Mithralol disse magari è un errore grammaticale invece in tutti i nuovi romanzi e anche in questo c'è scritto Mithral ma perché c'è scritto Mithral e non Mithril come nelle prime versioni? C'è stato forse qualche problema perché io penso che il primo che ha inventato la parola Mithril non voglio dire una cavolata se mi sbaglio chiedo scusa ma penso sia stato Tolkien col Signore degli Anelli quindi non è che magari chiamando Mithril anche nei Forgotten Reams non lo so l'associazione Tolkien ha avuto qualche problema comunque era più che altro una curiosità mia e questo è il primo dei romanzi che sono stati tutti quanti ripubblicati addirittura arrivano al 22 che è Il Re degli Spettri poi ci sono dal 23 al 26 ovviamente che sono di prossima pubblicazione che sono Gaunt Grimm Neverwinter L'Artiglio di Caronte The Last Threshold che ovviamente sono i titoli previsorio in inglese La Note del Cacciatore Rise of the King Vengeance of the Iron Dwarf Archmage Maestro e Hero però come torna a ripetere sono soltanto titoli provvisori la storia di Dritz è bella perché all'inizio ovviamente qui nei romanzi ci fanno affezionare molto a Dritz e Zack che praticamente Zack è il padre il maestro di spade di Melegmatter e Dritz d'Ordden ma già quando andrà a soffertificio faremo la conoscenza di Regis l'Alfling che poi è un ladruncolo Wolfgar il guerriero barbaro Bruenor Battlehammer che è il legittimo re di Mitralol Mitralol vabbè come si chiama e Cattibri che è una ragazza umana un'adolescente umana che viene presa come figlia adottiva da Bruenor Inano quindi faremo la conoscenza poi di Artemis Entreri Richard Lacks e tantissimi altri personaggi andando avanti ed è veramente bello perché veramente sono storie che quando inizi a leggere questi romanzi e parlo per me non ti ci stacchi più e soprattutto ci portano a visitare un mondo che è possibile vederlo praticamente ad occhi aperti e Salvatore ha sempre avuto uno stile di scrittura che a me piace da morire perché Tolkien è pesante magari anche Terry Brooks era troppo per i dettagli Salvatore invece è scorrevole cioè proprio scorre è liscio come l'olio veramente leggere un suo romanzo non lo leggi si fa leggere lui ed è bello perché è un tipo di scrittura dettagliata per l'amore di dire tutto quanto però non si sofferma troppo sui dettagli non è quella scrittura cyberpunk un po' troppo complessa è una scrittura fantasy leggera che piace a tutti infatti i suoi romanzi sono letti da chiunque ed hanno creato un personaggio che è quello di Driz che uno poi lo ami e uno lo odi comunque è un bellissimo personaggio e una storia ragazzi che va avanti ormai da più di 30 anni continua ad andare avanti e addirittura dei romanzi stanno per essere portati in Italia dall'Armenia ovviamente vi ho fatto vedere il titolo provvisorio e non è ancora finita la saga di Driz cioè dopo 30 anni che imperi sono caduti gente nata e morta purtroppo la storia di Driz di Urdan continua ad andare avanti e gli appassionati continuano a seguirla me per primo perché io Driz lo adoro ho sempre avuto videogiochi della saga dei Forgotten giochi da towel e tutto quanto perché poi a livello di Dungeon & Dragons quindi racchiuso nel cofanetto di Dungeon & Dragons in tutto quello che lo riguarda ovviamente i Forgotten sono la mia ambientazione preferita anche Ravenloft mi garba però i Forgotten sono perché i Forgotten è nella classica ambientazione dove ci puoi buttare di tutto ci puoi buttare pirati ci puoi buttare draghi ci puoi buttare gli unicorni ci puoi buttare nani ci puoi buttare gli elfi gli elfi scuri gli elfi della notte gli elfi dell'acqua cioè ci puoi buttare qualsiasi cosa che ti venga in mente quindi forse laddove vince i Forgotten Rams rispetto a tante altre ambientazioni fatte per Dungeon & Dragons è il fatto che uno sono state valorizzate da Salvatore ovviamente con tutti quanti i racconti che ci hanno fatto approfondire e arricchire di contenuti e soprattutto poi per il fatto che è un'ambientazione alla portata di tutti che ci puoi buttare dall'A alla Z tutto quello che ti viene in mente qualsiasi cosa veramente quindi consigliatissimo il buio profondo e primo link in descrizione sito dell'Armenia dove trovarlo io ringrazio l'Armenia Edizioni veramente grazie di cuore per avermi mandato questa copia spero che ovviamente possa continuare perché mi interesserebbe anche andare avanti e rileggerli tutti quanti ragazzi primo link in descrizione lo acquistate il prezzo è di 14 euro e ne vale veramente la pena da morire poi come dico sempre comprate il primo non vi piace lasciate stare ma io sono sicuro che se comprate il primo iniziate a leggere vi innamorerete di Diritz d'Ordene e di tutte quante le sue storie è veramente una cosa spettacolare e poi sono scritte da paura fatemi sapere cosa ne pensate con un commento e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi